bentornati bentornati sul canale giorno dopo il pareggio amaro per come arrivato tra inter e napoli vorrei approfondirlo anche in un altro in un altro contesto visto che la scena se l'è presa totalmente il ormai ribattezzato caso acerbi per quanto accaduto in campo con juan jesus peraltro ex inter portato in europa proprio dall'inter anni 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 fa john jesus che poi è stato pure il protagonista del gol del pareggio e ne ho lette sentite tantissime come al solito perché in italia ci sbizzarriamo quando si tratta di dover dover dire la nostra no anche senza dati io sono riuscito a stare alla larga di a ogni tipo di ogni tipo di commento perché perché in questi casi è semplicemente inutile se non si hanno le le tutti gli elementi per giudicare si parla a vanvera quindi si parla solo per sentito dire oppure per per teoria o per deduzione che senso ha nessuno sono arrivate le parole di juan jesus ieri post partita che però non ha chiarito poi effettivamente la qualità passatemi il termine chiaramente del del diverbio poi ha parlato la gente di acerbi ha parlato hanno parlato un po tutti diciamo dando la loro opinione spesso non richiesta sull'argomento o comunque poco attendibile perché o si era lì come testimone oculari oppure quello che vale vale veramente il tempo che trova e invece ha parlato a cerbi è tornato anzi tempo dal ritiro dell'italia a coverciano con per diciamo ufficialmente un un allontanamento un un addio anzi non rivederci alla 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 nazionale un addio per queste due amichevoli proprio dovute a quanto accaduto quindi al al fattore mediatico entrambe le parti quindi nazionale e giocatori hanno preferito non mischiare le due cose per lasciare sereno il lavoro di spalletti ma ha parlato a cerbi al ritorno lo sbarco appunto alla stazione a milano ha parlato e vi faccio ascoltare direttamente le sue parole che poi è quello che ci interessa perché delle opinioni così no lasciando stare che poi questa chiaramente è una è una testimonianza chiaramente di parte da di una parte ma io non sto vedendo due parti nel senso non sto vedendo a cerbi contro gioan gesus o gioan gesus contro a cerbi come per esempio fu all'epoca ibraimovic contro lucaco no don che i monchi eccetera eccetera anzi qui sto vedendo qualcuno che ha come gioan gesus che ha parlato fin dopo la partita dicendo si è andati oltre andare un po oltre con le parole senza specificare però in che cosa mi ha chiesto scusa va bene così e e poi queste di a cerbi io non dico bravo sbagliato giusto linciatelo salvatelo abbiamo semplicemente bisogno degli elementi poi come sempre non è che mi nasconderò e soprattutto non è che non sarò uno pronto a dire ha sbagliato solo perché a cerbi veste la maniera azzurra anzi tutt'al più sarò ancora più incazzato perché mi darebbe ancora più fastidio che una roba del genere venisse da uno con indosso la casacca dell'inter ma non avendo prove a supporto francamente non vedo perché uno debba cavalcare l'onda mediatica solo per accattivarsi no la simpatia anche di altri per fare quello vedi però non c'ho bisogno io personalmente magari altri sì non lo so sentiamo a cerbi va che meglio non diciamo un bel vaffanculo al razzismo intanto questo è poco sicuro hai apprezzato l'atteggiamento di mangettus è stato grazie non ho detto nessuna frase razzista questo è poco sicuro quindi sono molto sereno mi hai detto che è uscita in Italia che è una squalifica lunga si parla adesso ti confronterai con la squadra con la società ciao oggi adesso vediamo con la casa ho avuto modo di sentirlo poi ci fu lui ha detto ho difeso i miei diritti nella maniera migliore non l'ho sentito però sicuramente l'unica cosa che posso dire è che frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite questo è poco come sicuro hai chiesto scusa ma Gesù è vero questo è quello che ha detto lui ha detto che tu vi hai chiesto scusa tutto perché ci è capito anche male perché era giusto anche chiedere quindi ha chiesto lui qualcosa io non so, non so come ho detto frasi razziste questo è poco come sicuro è da 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico e perché adesso hai detto Spalletti? cosa ti ha detto Spalletti? ti ha detto Spalletti? ti siete chiariti almeno? cose nostre assolutamente grazie ti accompagniamo a Daccio grazie molti grazie molti dicono Acerbi deve dire la verità deve parlare farei qualcosa ti esprimerai sui social sui social ragazzi quello che ho detto l'ho già detto e ve l'ho già detto è quello che dirò comunque Don Fermi non hai mai detto frasi di quello che ha detto Bongiosus? questo è poco come sicuro e ti ha fatto piacere quello che ha detto lui in post partita comunque? se non l'ho detto nessuna frase razzista perché dovrebbe essersi inventato è vero che le cose di campo rimangono in campo non bisogna comunque non sentare scusate dove è il media? no è il gallo di là tutta l'altra parte sì dai intanto abbiamo fatto tutto ciao Francesco ciao grazie adesso come la mettiamo c'è tutto quello che si è detto fino a oggi per quasi 24 ore quindi lo buttiamo nel cesso sempre la solita storia ragazzi un conto è un coro dei tifosi che parte e lì c'è poco da interpretare un conto è qualcuno che parla davanti alle telecamere e c'è poco da interpretare un conto è un racconto di campo mentre due se le danno perché non so se poi avete visto le immagini c'è la spallata vigorosa di Joan Jesus poi c'è il battibecco eccetera eccetera io voglio credere ad Acerbi voglio credere che non abbia detto nulla di razzista qualora avesse detto qualcosa di razzista Joan Jesus chiaramente avrà modo e maniera di denunciarlo perché secondo me sono episodi gravi non faccio quelli che chiunque gioca da calcio si ragazzi se ne dicono tantissime e non solo giocando a calcio anche quando uno si incazza basti pensare a a tanti intercalari che purtroppo fanno parte della nostra società di oggi ma pure quelle di ieri sto ciecato quante volte abbiamo detto sto ciecato pensate a una persona che è cieca per lui potrebbe io non mi metto nei panni perché non sono cieco ma immagino potrebbe essere l'insulto più brutto oppure figlio di per chi ha perso un genitore o soprattutto la madre in questo caso perché la eccetera eccetera è donna potrebbe essere l'insulto peggiore oppure devi morire a chi ha avuto egli stesso un male quasi incurabile come nel caso di Acerbi per fortuna il quasi ha fatto la differenza o comunque che ha avuto dei dei parenti degli amici morti per quel per quel problema oppure la famigerata 104 no? la 100 è adesso è hai chiesto la 104 non è un sbaglio in cross hai chiesto la 104 oppure il più banalissimo guarda sto frocio sono intercalari chiaramente ci sono implicazioni differenti perché lo sappiamo i risvolti politici e storici del razzismo aprono un mondo però se entriamo nella soggettività e nel nella sensibilità di ognuno di noi nessuno può andare a sindacare se a me da più fastidio dire figlio di piuttosto che eh caucasico o o nero o pizza e mandolino o mafia come 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 è giusto che sia l'insulto la sensibilità va tarata su chi lo subisce l'insulto non chi su chi lo fa l'insulto però bisogna prima avere tutti gli elementi semplicemente questo nessuno qui si sottrae dal giudicare eventualmente da dire la propria figuratevi poi mi conoscete quindi si tratta di Acerbi potrebbe trattarsi di Teo Hernandez potrebbe trattarsi di Vlaovic potrebbe trattarsi di qualunque qualunque tipo di giocatore gioco a calcio ma al di là di giocare a calcio so che in campo spesso se ne dicono di ogni io a me personalmente non verrebbe mai in mente di di offendere a livello razzista qualcun altro ma potrei offendere o magari in passato ho offeso in altra maniera che evidentemente verso qualcuno che ha una sensibilità più spiccata verso quella quella situazione magari ha ferito è stato più più incisivo quell'insulto incisivo in negativo che dire un'altra cosa quindi è un mondo poi ripeto ci sono le implicazioni politiche storiche e sociali sul razzismo che non ci si scherza per niente e voglio che questo messaggio sia chiaro altrimenti partono i commenti sì però tu che sei interista stai diventando Acerbi no semplicemente sto dicendo prima di giudicare almeno personalmente non mi lascio condizionare dall'onda emotiva e voglio avere i dati il più possibile veritieri vi ho portato la testimonianza di Acerbi dalle sue parole poi c'è chi li crederà chi non li crederà è chiaro che se all'insulto nel caso aggiungi pure la falsa testimonianza il quadro peggiora io non credo che sia questo il caso Acerbi se ne sarebbe potuto tranquillamente uscire con sì purtroppo sono cose di campo o di campo ho sbagliato ho chiesto scusa salta che ne so gli danno le giornate poteva giustificare in un'altra maniera dire proprio così chiaramente non ho mai pronunciato frasi razziste è stato John Jesus che evidentemente ha frenteso l'insulto che qualcosa c'è stato per le scuse che evidentemente ha ricevuto perché non credo nemmeno che John Jesus sia inventato le scuse di Acerbi però bisogna andare prima a fondo ripeto so che siamo nel paese in cui la gogna sbatti il mosso in prima pagina eccetera eccetera poi le ha smentito un trafiletto è sempre meglio aspettare altrimenti come è accaduto oggi 24 ore da cestinare almeno fino adesso fino ad ora 24 ore di minchiate da cestinare un saluto